Mario del Giglio La vita per la vita attraverso Mario del Giglio domanda Ci vuoi spiegare come avviene la trasmissione del vostro pensiero attraverso il medium? Guida Io emano vibrazioni che potrebbero essere come i raggi ultravioletti che non si vedono se non con apparecchi o strumenti. Nell'esprimere il mio pensiero emano luce, luce uguale vibrazione. Se essa viene vista e sentita da uno spirito, comprenderà il mio pensiero in un attimo come un fascio di luce. Per voi che vivete in un corpo, quello che sto dicendo non può essere sentito e dubitate perché non sentite e non vedete. Il medium ha uno spirito che deve fare l'esperienza come intermediario. Questo fa ed è dotato di mezzi che altri non hanno. Lo spirito ha questo tipo di macchina per fare il viaggio e ha delle facoltà che gli permettono di sentire le mie vibrazioni, la mia luce. Nel momento in cui l'avverte, comprende quello che voglio dire, è essendo dotato di un corpo, lo spirito del medium traduce al suo corpo le mie vibrazioni e le tramuta con il suo bagaglio di conoscenza terrena nel vostro linguaggio. Dalla lettura che farete di questo messaggio potrete percepire il mio pensiero, non fermandovi alla lettera, bensì attraverso il vostro sentire. Non bisogna essere studiosi ed intelligenti di mente per comprendere, altrimenti non comprenderete affatto.